Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento metodi TRG. Andiamo ad analizzare la giornata di mercoledì 30 gennaio, giornata che vedrà un peggioramento del tempo su tutto il territorio regionale con il ritorno della quota neve a livelli alto collinari. Come possiamo vedere dalla cartina ho sottolineato la parte orientale e la zona penninica che vedrà molto probabilmente a partire dal pomeriggio una quota neve che si attesterà fra i 500 e i 700 metri, diciamo più intorno ai 700 metri, mentre tutto il resto della regione, la parte ovest regionale vedrà una quota neve che si attesterà fra i 700 e i 900 metri. Le precipitazioni non saranno abbondanti, anzi possiamo dire che saranno abbastanza esigue, ma permetteranno locali precipitazioni nevose e soprattutto dove insisteranno. Avremo le temperature minime instabili che si attesteranno fra i 0 e i 2 gradi, mentre le temperature massime saranno in lieve calo e si attesteranno fra i 3 e i 4 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.